E' uno dei prodotti simbolo della nostra regione, sicuramente il prodotto simbolo di Mezzaluna Piena, un nuovo locale che ad Andria vuole offrire il panzerotto nella versione alta qualità, fatto di sola farina pugliese, condito dei prodotti che offre l'orto. Tutto ciò che produciamo è frutto di anche materia prima nostra, di produzione nostra, e abbiamo cercato di valorizzare il territorio, per cui le farine pugliesi, abbiamo anche acquisito con un'azienda agricola un ettaro di terreno che abbiamo messo ad orto, nel vero senso della parola, quindi tutto ciò che produciamo, zucchine, melanzane, tutto ciò che è del periodo, riusciamo ad utilizzarlo direttamente, quindi filiera praticamente zero, chilometro zero FTV. Gli impasti dei panzerotti sono circa 14, dal rosso carota al nero di seppia, insomma ai 5 cereali, ripeto, sono tantissimi gli ingredienti che formano i nostri panzerotti, e alla stessa maniera le pucce e anche le francesine, quindi è una varietà di colori, è una cosa simpaticissima, ma tutto scrupolosamente creato dalla carota realmente prodotta e quindi macinata, e non dalle polverine di carota e quant'altro, quindi tutto prodotto fresco, arriviamo a produrre il nostro panzerotto, la francesino, la puccia che sia. Non solo panzerotti, pucce e francesine sono gli altri prodotti che mezzaluna piena offre ai clienti, rigorosamente freschi. Nella nostra attività non abbiamo la presenza di un congelatore, inesistente il congelatore perché lavoriamo tutto sul fresco, tutto ciò che riusciamo a fare, nel momento in cui abbiamo ultimato il materiale ci fermiamo perché lavoriamo sul fresco e quindi basta così. I nostri prodotti hanno un'alta digeribilità in virtù del fatto che sono lievitati 48-72 ore, motivo per cui si riesce veramente a degustare anche un quantitativo di 3-4 panzerotti durante la stessa serata, proprio perché sono molto leggeri e facilmente digeribili. Realizza invece un sogno coltivato da tempo Carlo Dirella, che ha fondato qualche anno fa nella sua Ruvo un micro birrificio, che ora è tutt'altro che micro. Se voglio una Bex qui. Non la troverà mai una Bex qui perché noi abbiamo valorizzato il nostro birrificio, che è il birrificio ormai da 5 anni attivo, con produzione di birre artigianali, con orzi prodotti da noi. La birra che degusterete qui a mezzaluna piena, la Spina, è una birra bionda, bio, lupolo d'oro, dicembre 2017, feder birra. Quindi insomma, pronto di altissima qualità, non lo diciamo noi, ce lo dicono i giudici dei concorsi, oltre ad aver già ricevuto altri premi nel Bruxelles Challenger Beer 2015. Questo è il completamento di un sogno di ristorazione diretta della birra, la Spina.